su di giri amici sportivi e benvenuti al consueto vlog del venerdì quello nel quale abbiamo ospite Andres Diamond buongiorno amici allora hai preparato qualche argomento caldo di discussione o devo fare tutto io? no va bene invece lo ce lo stai tranquillo adesso alle porte c'è extreme rules e ci sono in palio un po' di cose un po' di musica musica Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, shit. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.